Shalom fratelli e sorelle in Cristo. Riutilizzo un'espressione di qualche giorno fa. Gesù va sempre dove deve andare e fa sempre ciò che deve fare. Non fa mai niente per caso. Se Gesù è sceso al Giordano per farsi battezzare da Giovanni, significa che doveva farlo. Il padre glielo avrà chiesto. Giovanni era turbato perché sapeva chi gli stava di fronte. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma dovevano compiersi le profezie, i segni. Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Il battesimo di Gesù nel Giordano era stato preannunciato dal profeta Isaia in riferimento al servo del Signore su cui Dio pone il suo spirito. Per questo Giovanni va oltre il turbamento e battezza Gesù e si adempia la profezia. Dice il testo. Appena ha battezzato Gesù uscita all'acqua ed ecco si aprono per lui i cieli ed egli vide lo spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva Da quel momento in poi Gesù viene capito come l'unto del Signore, il Messia promesso e inizia la sua opera di evangelizzazione. Il battesimo di Gesù è un evento di salvezza. Nel Giordano è sceso per noi. È importante che anche noi scendiamo. Nel giorno del nostro battesimo anche noi siamo scesi nelle acque del Giordano. Ciò nonostante dobbiamo continuare a scendere nella divinità di Cristo nel suo amore misericordioso per volere del Padre. L'esistenza umana è una discesa nella morte di Gesù per essere esaltati, glorificati dal Padre. Temete, onorate, rodate, benedite, ringraziate, adorate il Signore Dio Onipotente nella Trinità e nell'unità Padre, Figlio e Spirito Santo Creatore di tutte le cose Uniti nel Caritas in e Modo Uniti nel Caritas in e Modo